Se qualcuno non ha visto la partita e va a vedere il risultato sembra troppo eccessivo. Però chi ha visto la partita ha visto che secondo me abbiamo fatto una buona squadra contro una buona squadra perché comunque i 9-10 punti che ha secondo me se sei rimanato tutti. Peccato che noi regaliamo sempre 1-2 palle gol. Però c'è da lavorare e stiamo qua apposta per lavorare e far migliorare i ragazzi. Il rammarico è per il secondo e il terzo gol preso. Uno svarione difensivo il secondo, un calcio di rigore praticamente regalato il terzo. Però è una squadra che deve crescere su questo? Sì, è una squadra che deve crescere ma questo lo sappiamo. Ragazzi che devono crescere. Bisogna migliorare in tutti i reparti. Noi facciamo di tutto per farli migliorare. Sia io che misteriandolo che oggi non c'era per febbre. Stiamo qua apposta per farli migliorare e per dare qualcosa in più che già ci hanno. È mancato quel pizzico di cattiveria in più sotto porta? Non un pizzico. È mancata proprio la cattiveria dell'ultimo passaggio e dell'occasione che abbiamo avuto. Perché se vai a vedere la partita e le occasioni ci siamo arrivati anche facilmente davanti. Però ci manca, non lo so, comunque questo arriverà. L'ultimissimo è sul rigore di Mocanu che ha scacciato via un po' i fantasmi dell'errore di Monopoli. Insomma è un ragazzo che mostra la personalità. Sì, un ragazzo che mostra personalità ma un ragazzo che deve capire che ha tanto tanto da migliorare e da lavorare insieme a lui come tutta la squadra. Grazie. Grazie mille a mister Raffaele Biancolino.